Si è svolto oggi alle 18 ad Arco l'incontro pubblico riguardante il progetto dei lavori di messa in sicurezza del versante orientale e settentrionale del Monte Brione fra le località Linfano e Grotta, un tema che ha sollevato molte critiche in Consiglio Comunale sulla realizzazione della struttura, a loro dire impattante, di un vallotomo di contenimento. Per contro, invece, i cittadini della zona chiedono d'urgenza la messa in sicurezza dell'area dopo la frana del 9 marzo 2014. Nel 2014 il Brione ha sganciato una frana abbastanza pesante sulla strada, una montagna che deve essere messa in sicurezza. Qual è il progetto? Quali sono gli obiettivi da raggiungere? Io partirei dal dire che non è stata abbastanza pesante, ma è stata molto, effetti molto importanti e impattivi. Dopo, fortunatamente, non vi sono state vittime, però, insomma, gli autoveicoli, gli edifici coinvolti, insomma, se fossero finite di mezzo anche persone sarebbe stata, insomma, le conseguenze ben molto più gravi. Quello che noi come amministrazione abbiamo fatto è quello subito di fare un monitoraggio dell'intera fronte del Monte Brione, andando anche un po' oltre quello che erano magari il singolo fronte, ma avendo un monitoraggio intero sulla intera montagna. Quindi abbiamo fatto uno screening molto più approfondito. è emerso delle situazioni immediate che hanno portato degli interventi sull'abitato della grotta e poi la necessità di dover intervenire su quello che è il Monte Brione, il fronte, insomma, che è stato oggetto dell'evento franoso. Oggi noi abbiamo fatto un percorso, un percorso che è stato anche un po' contestato, quantomeno dicendo che ci voleva ancora più attenzione dal punto di vista ambientale. Abbiamo inserito all'interno del gruppo di lavoro un paesaggista, un paesaggista che si è occupato dell'aspetto estetico. Questo ha portato un rallentamento di quasi un anno e oggi abbiamo un progetto che prevede la realizzazione di questo Vallo Tomo, che è l'unica opera con le conoscenze che ci sono oggi attualmente per mettere in sicurezza il tutto. Io credo che siamo già nel 2017, sono passati tre anni e io davvero sento di essere nel ritardo da un punto di vista del dover internare le linee prima possibile. Mi spiace che qualcuno magari cerchi di strumentalizzare questa vicenda, magari riproponendo altre questioni come sono successe in altri territori di Trentino, leggi si mori. Oggi facciamo un incontro pubblico, l'ennesimo, perché abbiamo già fatto due consigli comunali per spiegare bene le questioni, poi aperte il confronto, aperte ogni tipo di soluzione, ma non è pensabile che ci si inventi soluzioni che non stiano in piedi. Sono state investite risorse importanti, c'è un progetto, questo progetto deve diventare esecutivo e partire con le opere. Sarà presente con la provincia autonoma di Trento tramite l'assessor Mellarini e adesso bisogna andare ancora più di corsa. Che tempi ci saranno per realizzare l'opera? Innanzitutto è un'opera che ha un costo significativo. Il primo lotto, che è un lotto significativo, sarebbe l'intenzione dell'amministrazione riuscire a partire all'interno del 2017, massimo i primi mesi del 2018 e poi nel primo anno, primo anno e mezzo, realizzare il primo lotto e poi successivamente, quando vi saranno le risorse, fare anche il secondo lotto. La costruzione del Vallo Tomo per mettere in sicurezza il Monte Brione sembra l'unica soluzione possibile. Noi avevamo fatto quella conferenza stampa un paio di settimane fa, alla quale avevano risposto la maggioranza che ci eravamo inventati fondamentalmente dei dati. In realtà noi riportavamo semplicemente il contenuto di quella lettera della provincia che metteva in evidenza le criticità di questo progetto, tra cui i costi eccessivi, il costo eccessivo degli espropi, l'entità dei lavori. C'era stato risposto che in realtà avevano concordato tutto quanto con la provincia. A seguito di una richiesta di accesso agli atti è venuto fuori che non esiste nessun documento che modifica il contenuto di quella lettera di febbraio. Quindi ad oggi gli atti ufficiali, le carte, quindi i fatti, dicono che i lotti saranno tre e che quindi il primo lotto sarà minimo di 300 metri, che mette in discussione a questo punto già proprio l'intera opera in fatto di sicurezza. Parlano di sicurezza ma allora ci devono spiegare in che modo questo intervento minimo che si mette oggi a budget può garantirla. Mettere in sicurezza il Montebrione è una priorità? Una priorità assoluta, una priorità che deve vedere oggi non solo il coinvolgimento da parte delle istituzioni ma anche dei proprietari i quali hanno già accettato quello che sarà l'intervento. Un intervento che sarà fatto per step e un intervento che pone in sicurezza una parte del territorio orcense, dell'Alto Garda, importante e credo che l'impegno della provincia, dell'amministrazione comunale, un impegno proprio per garantire sicurezza ai cittadini. La tecnica usata, il Vallo Tomo, sembra l'unica soluzione possibile? Ma è una soluzione che è stata valutata da parte dei nostri collaboratori con degli esperti proprio perché il Vallo Tomo dà garanzie per il futuro.